così è scritto in Efesini capitolo primo dal verso 15 perciò anch'io avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi non smetto mai di rendere grazie per voi ricordandovi nelle mie preghiere affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo il Padre della Gloria vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscere pienamente conoscerlo pienamente e gli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti al di sopra di ogni principato autorità potenza signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro ogni cosa gli è stata posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla chiesa che il corpo di lui il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti la parola di Dio in questi versi esprime qualcosa di straordinario e io voglio che voi facciate delle considerazioni con un po' di attenzione ho letto prima nell'introduzione del nostro culto il capitolo pochi versi del capitolo 2 della degli atti degli apostoli e quel capitolo dall'inizio ad una ad una svolta ad un cambiamento totale del modo in cui la chiesa cominciò a servire il signore tutto quello che segue nel libro degli atti degli apostoli è fondato su quell'evento del capitolo 2 degli atti se se gli atti al capitolo 2 non avesse descritto questa realtà ovvero se non si fosse realizzata la pienezza dello spirito di Dio con la sua discesa tutto quello che seguì non ci sarebbe stato il fondamento degli atti degli apostoli e quello che accade nel capitolo 2 la gloria delle della potenza di Dio segni miracoli prodigi conversioni a migliaia il messaggio dell'evangelo che si diffonde da lì in tutto il mondo allora conosciuto è una diretta conseguenza non semplicemente della visione di alcuni uomini ma del piano di Dio realizzato attraverso degli uomini per la potenza del suo spirito quindi quando noi guardiamo agli atti degli apostoli non dobbiamo semplicemente fermarci nel libro degli atti e poi considerare le lettere come qualcosa a parte le lettere continuano a descrivere quello che negli atti degli apostoli viene vissuto in forma di insegnamento ma lo ritroviamo e qui se voi fate attenzione troviamo la stessa realtà troviamo Paolo che prega affinché uno spirito di sapienza e di rivelazione giunga nel cuore dei credenti affinché Dio possa essere conosciuto per mezzo della rivelazione in modo intenso profondo intimo direttamente come rivelazione certo dagli scritti biblici ma dallo spirito di Dio che agisce in loro non dimenticate che mentre Paolo scrive il canone del Nuovo Testamento si sta formando ma non c'è il Nuovo Testamento per i credenti a cui si rivolge ci sono gli insegnamenti, ci sono i primi scritti che vengono portati e diffusi tra i credenti ma c'è la potenza dello spirito fondata sull'insegnamento degli apostoli che porta la conoscenza di Dio e se voi vedete questo spirito di rivelazione e di conoscenza si manifesta anche negli atti degli apostoli nel contatto diretto ad esempio che Pietro ha con lo spirito di Dio quando gli insegna che non deve considerare i gentili come un popolo escluso dalla grazia o la rivelazione che Paolo ebbe direttamente da Dio dell'intera verità evangelica che poi ci trasmise voi vedete che quello che è scritto qui è quello che gli atti degli apostoli descrivono in forma pratica ma poi lo troviamo qui quindi questo insegnamento che parla della potenza di Dio presente dell'eredità in serbo per chi crede per la conoscenza che Dio vuole dare di se stesso molto profonda nel cuore di ciascuno di noi non è qualcosa che è estraneo agli atti degli apostoli ma che è vissuto negli atti degli apostoli e insegnato qui, qui, qui e perché? perché Dio ha voluto marcare in maniera molto profonda l'insegnamento dato dagli apostoli con la pratica vissuta dai discepoli negli atti degli apostoli e quindi questo scritto è stato tramandato a noi ed è stato indirizzato prima agli Efesini perché essi potessero con Paolo e gli altri discepoli sperimentare quello che gli atti degli apostoli hanno descritto praticamente gli atti degli apostoli non vengono semplicemente rinchiusi in quell'insegnamento o in quei racconti storici ma si espandono ovunque l'Evangelo giunge questo è il pensiero di Dio e questo è l'Evangelo che ci è stato tramandato noi non crediamo ad un Evangelo diverso noi non crediamo che il tempo abbia fatto scadere alcune verità dell'Evangelo non riesco a spiegarmi come se allora si potessero vivere e oggi no alcuni, vi dico questo, perché alcuni insegnano che gli atti degli apostoli erano un'esperienza vissuta perché era il momento del principio dell'espansione dell'Evangelo e quindi necessitava di una manifestazione di potenza maggiore ma che oggi quella potenza non si rivela ma questa è una falsità infinita perché quella stessa potenza la ritroviamo negli insegnamenti degli scritti dell'Apostolo Paolo e questa parola è parola eterna e non a scadenza, non a termine cielo e terra passeranno ma le mie parole non passeranno e quindi la mia premura e ve lo insegno e ve lo insegnerò ancora è che ciascuno di noi si confronti riguardo alla propria fede non con l'esperienza vissuta in Chiesa qui ma con la realtà descritta qui perché noi non crediamo nella realtà vissuta in Chiesa noi crediamo nell'Evangelo riesco a spiegarmi io non mi adeguo alla vita di Chiesa io devo raggiungere ciò che l'Evangelo trasmette e questo per noi oggi è fondamentale importantissimo straordinariamente prioritario perché oggi noi ci troviamo ad affrontare un tempo che è un tempo difficilissimo un tempo che prepara un cambiamento nel mondo se la parola di Dio ci dice che i tempi si riconoscono dai segni così come sappiamo che sta giungendo l'estate perché vediamo le gemme nascere nel fico io credo che i tempi che stiamo vivendo oggi ci parlano di giorni che sono veramente gli ultimi giorni e la Chiesa non può far fronte a questi giorni se non ha ben chiaro qual è l'Evangelo e che cosa la Chiesa debba ricercare anzitutto leggendo questo brano noi veniamo messi dinanzi a delle verità straordinarie il primo la prima verità è che Dio non ha smesso di rivelarsi o farsi conoscere da noi chi è che conosce Dio pienamente perfettamente in modo assoluto noi abbiamo bisogno di crescere nella conoscenza di crescere nella rivelazione di crescere nell'esperienza perché a questo siamo stati destinati qual è lo scopo della mia vita? in poche parole conoscere Dio conoscerlo sempre più conoscerlo fino in fondo assaporare la sua rivelazione assaporare sempre di più la sua santità la sua gloria la sua potenza conoscere personalmente in una relazione diretta chi è Dio e qual è l'immensità del suo amore per me e della sua potenza che agisce in me noi abbiamo bisogno di queste cose noi a volte andiamo avanti senza più l'anelito la brama l'ansia di conoscere Dio di più di sperimentarlo ma questo non può essere guardate l'Apostolo Paolo quasi alla fine della sua vita dopo anni di esperienze gloriose di rivelazioni così alte che aveva bisogno di una scheggia nella carne per non inorgoglirsi egli dice che ha ancora la brama intensa di conoscere Cristo e rinuncia a tutto pur di continuare a conoscerlo il credente che abbia smesso di bramare di crescere nella conoscenza è un credente che ha spento la lampada nel suo cuore riesco a sfiegarmi come puoi pensare di far ardere del fuoco se non metti sopra la legna del desiderio perché arda questa fiamma della conoscenza e della passione quando è che la nostra passione cresce? cresce quando l'esperienza con Dio si fa forte reale vera ed è questo quello che noi dobbiamo desiderare crescere nella conoscenza la conoscenza che ci viene da Dio per mezzo di un'esperienza reale e poi ci parla questo brano poi arriverò al punto della potenza in noi ci parla di un'eredità ora prima di entrare nel discorso dell'eredità dobbiamo considerare una cosa che l'eredità che è stata preparata per noi l'eredità è per i familiari quindi quando Gesù parla dell'eredità che è stata preparata per noi indica con grande forza che noi siamo la sua famiglia ora la famiglia di Dio deve necessariamente avere delle caratteristiche deve somigliare a Dio deve si deve respirare nella famiglia la presenza di Dio deve manifestare i suoi segni si deve assaporare la presenza dei suoi insegnamenti delle sue virtù della sua volontà e noi siamo coloro che siamo chiamati ad onorare il Padre perché Dio è nostro Padre non il Padre di chi non fa parte della famiglia di Dio e non anela a questa eredità riesco a spiegarmi siamo noi che siamo chiamati all'obbedienza noi che siamo chiamati a rispondere alla chiamata siamo noi che dobbiamo portare alta la bandiera del capo famiglia del nostro Padre Celeste e questo ci porta a considerare il bisogno che abbiamo di chi ma di Dio stesso e parla di un'eredità ora perché tante volte l'Apostolo Paolo parla dell'eredità ma ci sono tante ragioni io però voglio fissarmi oggi su su una perché se tu sei consapevole dell'eredità che Dio ti ha preparato tu hai la capacità di distaccarti dalle cose di questo mondo e per noi è importante fratelli distaccarci oggi più che mai perché oggi non abbiamo spazio per le distrazioni non ne abbiamo noi siamo chiamati oggi a risvegliare le nostre coscienze a queste verità e solo quando tu sai che la gloria di Dio è riposta nei cieli per te ed un futuro oltremodo glorioso che Paolo definisce con le parole ineffabile non si può descrivere non ci sono parole quando tu sai che la tua vita è custodita con Cristo in Dio che la tua eredità è nei cieli tu riesci a concentrarti su quello e non ti distrai con le cose che ti sono intorno molti martiri affrontarono le sofferenze che gli erano poste dinanzi con gioia perché sapevano che dinanzi a loro c'era qualcosa di così glorioso che valeva ogni sofferenza e questo per noi oggi è importante perché se gli ultimi tempi saranno i tempi che noi viviamo e onestamente io credo che siano veramente molto vicini e questi tempi porteranno persecuzione e sofferenza per me e per te è necessario avere chiaro prima la rivelazione dello spirito di Dio che ti dà la sua conoscenza secondo la consapevolezza di chi sei in Cristo terzo avere chiaro che la tua eredità è nei cieli affinché tu abbia la forza di sacrificare ogni cosa in vista di quello e quarto e questo è il punto abbiamo bisogno della potenza di Dio ne abbiamo bisogno vedete la benedizione di Dio è per tutti i figli che la ricercano Dio non è avaro di benedizione ma lo sto ripetendo più volte più volte in questi giorni Giacomo dice voi non ricevete perché non chiedete o chiedete male per spendere nei vostri piaceri noi dobbiamo presentarci dinanzi a Dio per avere da Dio chiarezza in questi punti che abbiamo descritto ma soprattutto avere la fede di credere che la potenza dello spirito di Dio è stata riservata per noi e che noi non possiamo farne a meno non è possibile farne a meno non possiamo affrontare il nostro oggi non il nostro domani semplicemente ma il nostro oggi senza la potenza di Dio e allora e allora quello che dobbiamo fare è tornare al libro e dire Signore ma che cosa significa per me questa parola e questa potenza di cui tu parli l'immensità della potenza che tu hai riservato per noi qual è verso di noi che crediamo l'immensità della tua potenza Signore l'ho vista negli atti degli apostoli l'ho vista in Paolo in Pietro in Filippo negli altri testimoni Signore l'ho vista insegnata agli efesini descritta nella lettera ai Corinzi ho bisogno di viverla ho bisogno di fermarmi e dire quanto è lontano l'Evangelo da me non perché io non lo legga non sto parlando della lettura sto parlando di vivere ciò che in esso è scritto e noi abbiamo bisogno di appropriarci di questa verità di sfidare noi stessi e la nostra fede come Dio come l'angelo di Dio sfidò Gedeone va con questa tua forza verso dove? verso la conquista di una nuova relazione con Dio perché la vera vittoria per Gedeone non fu abbattere l'idolo di Baal o sconfiggere i Madianiti fu appropriarsi di un rapporto che prima non aveva con Dio e gli cominciò la storia gridando e dicendo a se stesso ma dov'è l'iddio dei miei padri perché sento le meraviglie narrate nel passato quando Dio liberò i miei padri dall'Egitto dov'è l'iddio dei miei padri vedete Gedeone aveva consapevolezza di credere in un Dio che non aveva vissuto e quello che egli ricercò era di vivere l'iddio dei suoi padri ecco quello che dobbiamo ricercare è di vivere l'iddio dell'Evangelo e dire come Gedeone forse sono timoroso pauroso batto il grano nello strettoio per timore dei miei nemici ma se io trovo la mia relazione con te secondo ciò che hai scritto e non secondo ciò che ho vissuto fino adesso allora io posso divenire Yerubal colui che sfida l'iddio di questo mondo e vince per la potenza di Dio ecco fratelli oggi è il tempo che la consolazione la troviamo nella potenza dello Spirito di Dio oggi è il tempo che io e te cominciamo a cercare Dio per trovarlo così come è scritto nell'Evangelo niente di meno che questo fratelli è un pensiero fisso che ho nella mente ed è un insegnamento che vi riproporrò ancora perché la Chiesa deve destarsi deve vivere quello che l'Evangelo ha promesso e noi abbiamo bisogno di scuotere le nostre coscienze e ciascuno dal canto proprio mettersi dinanzi a Dio cercare la sua faccia per conoscerlo di più e per lasciare che la sua opera mentre lo conosciamo trasformi la nostra relazione con Lui e trasformi il Gedeone che è in noi in Yerubal e ci dia la capacità di divenire testimoni che manifestano la potenza di Dio che opera in noi efficacemente la sua opera attraire la sua opera e an che ha di dimenticare a